Ci fa capire che razio c'è nei fatti poi? Perché se una persona di 91 anni e mezzo è costretta a rimanere in casa perché nessuno lo chiama, ma stanno vaccinando, mica solo in Campania, in tutta Italia, gli insegnanti di sostegno con le scuole chiuse, ci fa capire la logica di tutto questo? La ringrazio della domanda. Allora, prima di tutto l'agenzia proprio questo sta cercando di fare, anche come il portale trasparenza che lei ha appena fatto vedere, di avere un monitoraggio preciso della situazione che avviene in tutta Italia, regione per regione. Non le sfugge che sono situazioni totalmente differenti. La vaccinazione dell'insegnante, perché la vaccinazione dell'insegnante utilizza i vaccini ad adenovirus. In questo caso parliamo del vaccino AstraZeneca. Quando arriverà il Johnson & Johnson potranno essere utilizzati anche quelli del Johnson & Johnson. Gli anziani invece vanno vaccinati con un vaccino mRNA, che abbiamo avuto grandi difficoltà di approvvigionamenti. Col Pfizer, lei ricorderà bene quante volte hanno tagliato le dosi di Pfizer. Moderna per altri in Italia è arrivata in quantità risibili. Diciamo, tutto sommato, io ho un quadro completo della situazione. Le regioni stanno camminando abbastanza, invece in maniera uniforme. C'è stato questo problema serio dell'approvvigionamento dei vaccini mRNA. Ecco perché, come ricordava il Presidente Cartabellotta, abbiamo iniziato solo da metà febbraio. Infatti in premessa, le avevo detto, che purtroppo arriveremo a metà aprile per aver completato la vaccinazione degli anziani. Poi ci sono dei distretti che vanno molto più veloci e dei distretti che vanno più lenti. In alcuni distretti della campagna hanno già completamente finito le vaccinazioni degli ovvero 80. Ci sono anche altre difficoltà legate a volte agli ovvero 80 domiciliati. Per evitare di sprecare le dosi, devono uscire le usche, riescono a farne solo 10 in un'intera mattinata. Perché bisogna andare a domicilio con le fiale che sono contingentate perché devono essere fatte nelle 4 ore dopo lo scongelamento. E poi bisogna rimanere al domicilio dell'anziano almeno per mezz'ora per verificare che non ci siano degli eventi avversi, pedi vaccinali. Per cui è una situazione a volte certamente di una certa complessità. Però il problema serio è che rispetto a Israele sono totalmente in disaccordo con quel dato che la mortalità si sarebbe abbattuta di oltre il 20%. Si sarebbe abbattuta se avessimo avuto le quote di vaccini che ha avuto Israele. Israele ha avuto una capacità di approvvigionarsi di vaccini che l'Unione Europea invece non è riuscita a mettere in campo. Ma Israele ha anche 9 milioni di abitanti e l'Unione Europea ne fa quasi mezzo miliardo. Però Presidente, la forza della volontà...